Ciao a tutti, bentornati sul canale! Allora, numero 66 del castello di Harry Potter che, come già sapevamo, ci consegna questo pezzo per iniziare a vedere l'altezza della torre. Quindi diciamo che adesso andiamo ad aprire il fascicolo come al solito, andiamo a leggere tutto quello che c'è dentro e poi montiamo insieme questo nuovo numero. Ok, apriamo il numero 66 e andiamo a vedere. Allora, innanzitutto questo è il pezzo di questa uscita, guardate che bello, poi andremo a vedere se combacia tutto con gli altri pezzi e vedo che purtroppo siamo ancora tra due settimane in edicola per il numero 67. Se ricordo bene, dal 68 in poi dovrebbe diventare settimanale, per cui resistiamo un altro po' e poi sicuramente riusciremo ad andare un po' più spediti. Con questa opera che veramente sta durando un'infinità. Detto ciò, andiamo a vedere il fascicolo e poi montiamo il pezzo. Allora, numero 66. Andiamo a vedere che parlano di Victor Krum, che è un giocatore professionista di Quidditch. Allora, qui vediamo sue altre foto, diciamo, sempre tutte molto belle. Qui balla con Ermione. E poi andiamo avanti nel fascicolo, diciamo, fino ad arrivare alla parte del montaggio. Quindi, come era piuttosto chiaro, il pezzo che ci hanno dato questa volta è questo qui. Quindi, diciamo che arriviamo, anzi, superiamo la metà della torre, anche se dobbiamo sudare ancora un po' per arrivare, diciamo, alla parte completa. Quindi, vedete che l'assemblaggio è molto semplice. Adesso lo vediamo insieme. E poi, per quanto riguarda la prossima uscita, riceviamo una porta, che non ho capito bene dove va, vediamo se da qui si capisce. No, mi sembra di no, quindi forse è una parte che sta sul retro. E poi ci danno un'altra minifigure di Harry Potter. Diciamo che questo personaggio ce l'avevamo già, quindi, tecnicamente, è anche abbastanza inutile. Ma, a livello di collezionismo, va bene tutto. Detto ciò, passiamo a montare il pezzo e vediamo come sta su quello che abbiamo già fatto. Quindi, apriamo questo pezzo. Andiamo a vedere innanzitutto la qualità, la qualità dei mattoncini e dei disegni. Mi sembra tutto in ordine. Da notare che abbiamo questo perno, diciamo, che sta nella parte in alto a sinistra e quindi facciamo attenzione a mantenerlo lì. Dopodiché, vediamo se gli incastri sono buoni. Ok, mi sembrerebbe di sì. Allora, qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha fatto notare che i mattoncini non combaciavano, ma mi sembra corretto che sia così. Nel senso che sapete che i mattoni vengono alternati, quindi, perlomeno, nel mio caso, è assolutamente corretto che sia in questo modo. È anche corretto, ovviamente, che ci sia questo angolo, perché, chiaramente, poi la torre si sviluppa in altezza e qui è svasato, invece qui poi è dritto, quindi è corretto e mi sembra assolutamente, diciamo, tutto in ordine. Guardate che bello. Anche a livello di colori, direi che sono assolutamente soddisfatto. Eh, devo dire, sì, è d'obbligo essere soddisfatti con una roba del genere, perché il livello di dettaglio è veramente alto. Poi, il fatto che già ci siano le finestrelle forate ci aiuterà molto nel caso in cui qualcuno volesse inserire delle luci all'interno. Per quanto riguarda me, diciamo che le luci che avevo messo nella grande torre, ci ho dedicato anche un video, quindi se non lo avete visto, magari cercatelo nel canale, personalmente le ho rimosse perché il filo USB che avevo fatto uscire fuori per alimentarle dava piuttosto fastidio quando, diciamo, è un po' tutto montato. Però, siccome questa non è una parte che si aprirà, perlomeno in questa struttura, mettere delle luci dentro, magari con un piccolo interruttorino in qualche parte del retro potrebbe anche essere interessante e magari vantaggioso. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto come sta procedendo il vostro montaggio e soprattutto se avete notato qualche disallineamento dei mattoncini, ma a me sembra assolutamente perfetto. A questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale possibilmente attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram AlexMelenerd dove posto grossomodo le stesse cose che trovate qui su YouTube. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!